Benvenuti al vostro oroscopo quotidiano per oggi, 7 ottobre. Oggi esploreremo cosa riservano le stelle per ciascun segno zodiacale. Preparatevi a scoprire cosa vi aspetta in amore, lavoro e fortuna. Signoriete, guardate avanti con determinazione e non abbiate paura di mettervi in gioco. Questo è un momento in cui è necessario correre qualche rischio, specialmente sul lavoro. Le stelle vi incoraggiano a osare un po' di più e a non fermarvi davanti alle difficoltà. Anche in amore, siate più coraggiosi e intraprendenti. Non lasciate che le paure vi blocchino. Ma affrontate ogni situazione con fiducia e determinazione. La vostra impulsività potrebbe giocare qualche brutto scherzo in amore oggi. Le stelle vi invitano a moderare i vostri impulsi e a cercare di essere più pazienti nei confronti del partner. Le relazioni necessitano di tempo per crescere e maturare, e il vostro desiderio di vedere risultati immediati potrebbe creare tensioni. Chi è single dovrà fare attenzione a non lasciarsi trasportare da entusiasmi fugaci. L'amore vero richiede profondità e riflessione. Dimenticherete ogni situazione familiare spiacevole per poter lasciare spazio all'allegria e a qualche svago. Sarà tempo di concedervi la passione all'interno della coppia, soprattutto se avete raggiunto la stabilità dopo tanta attesa. Segno Toro Le previsioni del 7 ottobre vi vedono circondati da una ventata di ottimismo e positività. Questo è il momento perfetto per apprezzare ciò che avete raggiunto, sia in ambito lavorativo che personale. Siate fieri dei vostri traguardi e non abbiate timore di mostrarvi soddisfatti. La vostra determinazione vi ha portato lontano, e le stelle vi incoraggiano a continuare su questa strada, mantenendo alta la vostra autostima. In amore. La stabilità che avete costruito vi permetterà di vivere momenti sereni e appaganti. Rinnovare la comunicazione nella coppia sarà un passo in avanti nell'interazione. Una amicizia potrebbe ricomparire dal passato, e non sarà facile parlarci dopo tanto tempo di lontananza. La vostra testardaggine potrebbe creare qualche attrito nella coppia oggi. Le stelle vi consigliano di essere più flessibili e di non impore la vostra visione a tutti i costi. Il partner ha bisogno di sentirsi ascoltato e compreso. E solo dimostrando apertura mentale potrete evitare discussioni inutili. Se siete single, potreste essere attratti da qualcuno che sfida il vostro modo di vedere l'amore. Questo incontro potrebbe scuotere le vostre certezze, ma vi darà anche l'opportunità di crescere emotivamente. Segno gemelli. Le stelle vi sorridono, specialmente sul fronte amoroso. Se siete in attesa di buone notizie, soprattutto se siete single da molto tempo, questo può essere il momento giusto per voi. Non abbiate paura di aprirvi e di lasciarvi coinvolgere dalle nuove opportunità che potrebbero presentarsi. Sul piano professionale, invece, è importante essere più partecipativi e attivi. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo, ma prendete l'iniziativa e fatevi notare per le vostre qualità. Dare il meglio di voi nella vostra storia con qualche piccola sorpresa sarà una mossa favorevole a un'apertura sempre più possibile con la persona amata. La dimensione domestica sarà ancora un grattacapo che dovreste assolutamente sciogliere. La vostra mente curiosa e in continua ricerca di stimoli potrebbe farvi sentire insoddisfatti del rapporto attuale. Le stelle vi consigliano di evitare di cercare distrazioni esterne e di concentrarvi su ciò che avete, apprezzando le qualità del partner. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che condivide il vostro desiderio di novità, ma sarà importante non farsi prendere troppo dalle apparenze e conoscere a fondo la persona prima di prendere decisioni. Segno cancro. Questo è un buon momento per i nuovi inizi, sia in amore che nel lavoro. Le stelle favoriscono le novità, ma vi consigliano di evitare cambiamenti troppo radicali. È importante trovare una via di mezzo, cercando il giusto equilibrio in tutte le cose. In amore, potrebbe arrivare una nuova energia che vi spingerà a rinnovare il vostro rapporto o a intraprendere una nuova relazione. Sul lavoro, invece, è il momento di essere aperti a nuove collaborazioni e idee innovative. Ci sarà una straordinaria dose di romanticismo. Tutte le situazioni negative quali la gelosia e i dissidi verranno completamente messi da parte in virtù di una giornata all'insegna delle emozioni positive. Avrete una serata indimenticabile, fatta di tenerezza e di apertura. Il vostro bisogno di sicurezza emotiva vi spinge a consolidare il legame con il partner, cercando conforto e stabilità. Le stelle vi incoraggiano a esprimere i vostri sentimenti in modo aperto e sincero, senza temere il giudizio altrui. Se ci sono state delle incomprensioni, oggi è il momento giusto per chiarire ogni dubbio. Per i single, si profila l'opportunità di incontrare qualcuno che sappia prendersi cura di voi e offrirvi l'amore che desiderate. Segno Leone Le persone a voi vicine conoscono bene i vostri lati più complessi, e sanno quando è il momento di lasciarvi per conto vostro. Tuttavia, è importante non approfittare troppo di questa situazione. Se siete troppo distaccati, potreste generare incomprensioni o disguidi nelle relazioni. Le stelle vi consigliano di essere più presenti e di non trascurare chi vi sta vicino. In amore Cercate di dedicare più tempo e attenzione alla persona amata. Sarete piuttosto romantici. Ritroverete una sintonia di coppia che non raggiungerà la maturazione, ma che sarà inaspettatamente molto gradita. Cambierete atteggiamento sul piano amicale, riuscendo a trovare un compromesso con le varie idee. La vostra aura di regalità vi rende protagonisti in amore. Oggi vi sentite carichi di energia e pronti a fare il primo passo per risolvere eventuali tensioni nel rapporto di coppia. La vostra generosità e il desiderio di far sentire speciale il partner sono il motore che alimenta la vostra relazione. Anche chi è singola avrà l'occasione di brillare e di attrare persone che apprezzano la vostra sicurezza e forza interiore. Tuttavia, ricordate di essere autentici e di non forzare troppo la mano per mantenere il controllo. Segno vergine La pazienza è la chiave del successo in questo periodo. Se vi sentite impazienti o sopraffatti dalle circostanze, ricordate che la fretta è una cattiva consigliera. Questo è un momento in cui le stelle vi esortano ad essere lungimiranti e a prendere decisioni con estrema cautela. In amore e nel lavoro, agite con prudenza e ponderate ogni scelta con attenzione. Le opportunità sono all'orizzonte, ma solo chi sa aspettare riuscirà a accoglierle nel modo giusto. Nel rapporto con la famiglia purtroppo non arriveranno miglioramenti sensibili che possano rivitalizzare il dialogo. Non ci saranno incontri particolarmente interessanti da poter contare su una potenziale relazione. Il vostro approccio analitico alla vita potrebbe risultare eccessivo in questa giornata. Cercate di non essere troppo critici nei confronti del partner o di chi vi sta vicino, benché questo atteggiamento potrebbe causare malumori. Le stelle vi suggeriscono di lasciarvi andare un po' di più e di vivere l'amore con spontaneità. Per i single, l'amore potrebbe nascondersi in una situazione quotidiana, ma sarà necessario abbattere le barriere della razionalità per coglierlo. Segno bilancia L'oroscopo del 7 ottobre vi invita a essere meno malpensanti e a non lasciarvi influenzare troppo dalle vostre paure o insicurezze. Le stelle sono un po' incerte, soprattutto per quanto riguarda l'umore, quindi cercate di evitare sbalzi emotivi troppo bruschi. In amore È importante fidarsi di più del partner e non lasciarsi sopraffare dai dubbi. Sul lavoro Mantenete la calma e affrontate le sfide con razionalità. Se volete delle risposte a una intesa di coppia in calo, dovreste ricercarla nell'atteggiamento di entrambe le parti negli ultimi tempi. Vi prenderete molta più cura di voi stessi e del vostro corpo. L'armonia è al centro della vostra giornata e Venere nel segno amplifica il vostro fascino, rendendovi irresistibili. La comunicazione con chi vi circonda diventa più fluida, favorendo un'intimità profonda. Siete capaci di comprendere i desideri del partner e di rispondere alle sue esigenze con grande empatia. Per chi è single, l'incontro di una persona speciale potrebbe avvenire in un contesto inaspettato, ma sarà subito chiaro che si tratta di qualcosa di significativo. L'amore vi chiama e voi rispondete con tutto il cuore. Segno Scorpione In amore vi sentite in grande sintonia con la persona che amate, e questo vi darà la forza di affrontare eventuali difficoltà. Tuttavia, se siete single, potreste incontrare qualche ostacolo nel trovare la persona giusta. Le stelle vi consigliano di non perdere la speranza e di continuare a cercare, perché il vostro momento arriverà. Sul lavoro Mantenetevi determinati e non arrendetevi di fronte ai primi ostacoli. La perseveranza sarà la vostra arma vincente. Ritornerete ad avere un atteggiamento tranquillo e disinibito nei confronti dell'amore. Farete tutto ciò che è in vostro potere per regalare alla famiglia una giornata di allegria. Farete la pace con qualcuno con cui avete avuto un diverbio. La vostra natura passionale vi spinge a vivere l'amore con grande intensità, ma oggi le stelle vi mettono in guardia contro il rischio di diventare troppo possessivi. Il partner potrebbe sentire il bisogno di più spazio, e dovrete imparare a bilanciare le vostre emozioni per evitare conflitti. Se siete single, l'attrazione per una persona misteriosa potrebbe rivelarsi affascinante, ma fate attenzione a non idealizzare troppo chi vi sta di fronte. Mantenete un equilibrio tra passione e ragione. Segno sagittario L'oroscopo del 7 ottobre vi esorta ad essere intraprendenti, soprattutto in ambito lavorativo. Presto potrebbero partire progetti di grande importanza, quindi è fondamentale tenere gli occhi ben aperti e non lasciarsi sfuggire nessuna occasione. Anche in amore, dovete essere più aperti e disponibili, soprattutto quando si tratta di affrontare situazioni delicate. La comunicazione è la chiave per evitare fraintendimenti e per costruire relazioni solide e durature. La volontà di andare d'accordo con tutti sarà lodevole. E non sarà un caso se riuscirete a trovare anche delle amicizie nuove con cui stringere un legame ottimale, anche se non indissolubie. Sarete estremamente teneri con la persona amata. La voglia di avventura e di vivere esperienze fuori dall'ordinario vi conduce verso momenti di grande complicità con il partner. Le stelle vi sorridono, incoraggiandovi a esplorare nuovi territori emotivi e a non temere di manifestare i vostri sentimenti. Se siete in cerca di nuove emozioni, oggi è il giorno perfetto per incontrare qualcuno che condivida la vostra stessa sete di libertà e di amore. L'importante è mantenere aperto il cuore e non lasciarsi frenare da paure infondate. Segno Capricorno Le stelle vi consigliano di guardare al passato non con nostalgia, ma con gratitudine, utilizzando i ricordi come insegnamenti per costruire un futuro più consapevole e appagante. Anche se avete raggiunto importanti traguardi, questo non è il momento di sbandierare le vostre vittorie ai 4-20. Godetevele nel privato, assaporando il gusto del successo con discrezione. Nel lavoro potreste ricevere ottime notizie, che vi daranno la spinta per continuare a progredire. La situazione di stallo che affronterà la vostra storia d'amore non farà bene a nessuna delle due parti. Anche se ci saranno sfide comunicative di carattere familiare, evitate di arrendervi al primo tentativo. Potreste sentirvi particolarmente distanti dal partner, presi dai pensieri legati al lavoro o ad altre responsabilità. Le stelle vi invitano a fare uno sforzo per non trascurare la sfera affettiva, benché il partner potrebbe risentirsi di questa mancanza di attenzione. Anche per i single, sarà fondamentale trovare un equilibrio tra vita professionale e personale per non rischiare di perdere occasioni preziose di incontro. Segno Acquario Questo è il momento di riflettere attentamente prima di prendere decisioni importanti. Se state valutando di cimentarvi in un nuovo progetto, fate attenzione a considerare tutti i pro e i contro prima di lanciarvi. Le stelle vi consigliano di non agire impulsivamente, ma di pianificare con cura ogni passo. In amore Potreste dover prendere una decisione che riguarda il vostro futuro sentimentale, quindi fate attenzione a non lasciarvi influenzare troppo dagli altri. Sfide in amore Ritornare sui propri passi dopo una separazione sarà una decisione da prendere con criterio, ma avrete la tendenza a rimanere per conto vostro. La solitudine sarà una soluzione molto più valida di una relazione che non ha più motivo di esistere. Il vostro spirito libero vi porta a cercare novità e stimoli anche nella sfera sentimentale. Oggi, però, le stelle vi suggeriscono di fare attenzione a non trascurare i bisogni del partner. Un po' di attenzione ed edizione in più potrebbero fare la differenza, migliorando la qualità del rapporto. Per chi è single, l'attrazione verso persone eccentriche e originali potrebbe rivelarsi interessante. Ma è importante non farsi travolgere solo dall'entusiasmo iniziale. Siate autentici e tutto andrà per il meglio. Segno pesci La pazienza è una virtù e in questo periodo dovete esercitarla più che mai. Le stelle vi consigliano di non essere troppo frettolosi, sia in amore che sul lavoro. È importante trovare il giusto equilibrio e non prendere decisioni affrettate. Anche se le cose potrebbero non andare esattamente come desiderate, ricordate che il tempo gioca a vostro favore. Siate pazienti e attendete il momento giusto per agire, senza forzare le situazioni. Passione al top Sarà un periodo roseo sia per le coppie sia per i single. Fare la conoscenza di qualcuno di speciale vi lascerà in un contesto di felicità e armonia unica. Vi esprimerete con le parole più dolci possibile, regalando emozioni a dir poco eccezionali. La vostra capacità di sognare e di immergervi nel mare delle emozioni vi permette di creare momenti magici con il partner. Oggi sentite un forte desiderio di connessione spirituale. E questo vi spinge a cercare una maggiore profondità nel vostro rapporto. Chi è single potrebbe scoprire un legame particolare con una persona che condivide la vostra sensibilità e visione romantica della vita. Lasciatevi trasportare dalla corrente dei sentimenti. Ma fate attenzione a non perdervi in illusioni troppo lontane dalla realtà.